389 euro per questo foroscope di gravity che dire un prezzo assolutamente incredibile e infatti valido per pochi giorni è valido a partire dal 16 di gennaio per 48 ore poi si alzerà considerate che al suo interno come vedete nella video recensione batte un calibro miota serie 9 considerate che ci sono cinque materiali diversi sul quadrante considerate che la luminescenza vi stupirà e che la cassa è davvero ben realizzata con una distanza da ansa ansa che lo rende perfetto per chiunque donna uomo che possa avere voglia di indossare un orologio particolare con queste premesse vi anticipo quello che sarà il succo di questo video però mi raccomando se non l'hai già fatto fa un bel like iscriviti al canale modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti quelli che pubblico qui su youtube gravity l'ho scoperto in quel di tortona già l'anno scorso con modelli secondo me molto interessanti che davano il meglio di sé all'interno di quello che era il panorama molto ampio degli stand non solo orologi che hanno sempre avuto alcune secondo me elementi che possono unire tutte le referenze realizzate ad oggi ottimo rapporto qualità prezzo legame con lo spazio il cielo gli astri e sorprese al buio ovvero che quando la luce scompare regalano diciamo così delle colorazioni molto particolari e questo non è da meno il prezzo ve l'ho detto la luminescenza la guarderete quando farò vedere la prova al buio però ora guardiamo nel dettaglio la video recensione poi vi aspetto ancora qui per dire ancora qualcosa su questo modello ed eccoci di fronte al gravity in particolare cosmo questa linea cosmo prevede tre colorazioni che vi metto in sovrimpressione la red che stiamo ammirando in questo momento la silver e la blu tutte e tre le colorazioni hanno anche un bel bracciale che vi metto qui in sovrimpressione e che sarà disponibile nel momento in cui verranno inviati poi i orologi finiti questo è un sample quindi c'è qualche piccola differenza rispetto a quello che sarà il prodotto finito ma posso ben dire che siamo già un 90 per cento di quello che è il risultato finale che si aspetta la produzione ed eccolo col cinturino montato davvero un orologio molto molto particolare cinturino tra l'altro che possiamo vedere è impreziosito da una fibbia d'ardiglione con il logo inciso è in pelle italiana è fatto davvero molto bene e anche lo sgancio rapido e già che ci siamo diamo un'occhiata anche al calibro il calibro fa parte della serie miota 9 in particolare in questo caso siamo di fronti al 90 39 calibro di casa miota che ha come peculiarità il parashock poi abbiamo 42 ore di riserva di carica la possibilità di ricarica manuale e 24 rubini e uno scarto medio dichiarato tra i meno 10 e più 30 secondi un calibro molto utilizzato grazie anche ad una altezza abbastanza contenuta che permette di realizzare quindi orologi che abbiano anche nelle proprie misure un aspetto molto ben fatto qui abbiamo tra l'altro possibilità di ammirarlo attraverso un oblò dove rispetto a come siamo abituati di solito con scritte molto grandi sono riassunte davvero molto in piccolo quelle che sono le caratteristiche dell'orologio orologio orologio che rispetto alla finezza delle anse che possiamo avere vedere sembrano quasi sparire rispetto alla carriere ha un cinturino che secondo me è leggermente più spesso bisognerebbe trovare il modo di avere un cinturino ancor più sottile così che riesca ad integrarsi senza che ci sia questo centesimo di millimetro perché parliamo davvero di centesimo di millimetro magari si vede un po' di più che fuoriesce ma davvero è una piccolezza abbiamo poi una corona di carica ovviamente a pressione visto la tipologia di orologio che stiamo ammirando non ha impuntamenti di nessun tipo come vedete si è fermato visto che c'è l'hacking dei secondi però secondo me è leggermente scomoda è un po' piccolina quindi per chi ha le mani con le mie che non sono giganti però si fa un po' fatica ad estrarre e questo magari può dar fastidio alla lunga detto che cosa che ricordo sempre quando si ha di fronte un orologio a carica automatica consiglio è dare qualche giro e poi indossarlo perché sarà il moto che farete insieme all'orologio a dargli la carica necessaria evitate di continuare ad utilizzare la corona di carica perché non siete di fronte ad un orologio a carica manuale abbiamo una cassa in acciaio 316 l sabbiata e un vetro frontale con trattamento antiriflesso che ci permette di tenere molto bene a bada quelli che sono i raggi di luce che vanno a colpire l'orologio la luminescenza è davvero una delle peculiarità di questo orologio così come gravity neanche in passato ci ha mostrato proprio nel buio riesce a dare il meglio di sé e così la superluminova bg w9 che stiamo ammirando in questo video accelerato ci permette di vedere come l'orologio diventi davvero molto affascinante particolare mi ha ricordato quelli che sono le peculiarità al buio di un altro marchio molto famoso nell'orologeria internazionale come ming che al buio diventa un qualcosa di ancora più interessante un'altra peculiarità di questo orologio sta nel quadrante adesso lo andiamo a vedere da vicino ma già da qui possiamo ammirare come ci siano ben 5 diversi livelli che vanno a realizzare questo orologio 5 sono gli strati che possiamo ammirare in questa inquadratura abbiamo la presenza di rame di acciaio e di meteorite al centro di questo quadrante davvero unico che possiamo ammirare nelle sue sfaccettature con questi indici numeri romani applicati che vanno a dare un tocco molto particolare e ulteriormente impreziosito da questo anello rosso che va a racchiudere l'intero orologio vi racconto un'altra peculiarità su questo orologio vi ho già parlato di quello che è il fondello del calibro miota serie 9 in particolare il 90 39 ma non vi ho detto una cosa che questo orologio ha un cristallo in zaffero anche sul caseback quindi sul fondello abbiamo zaffero nella parte sia superiore che anteriore questa è una chicca davvero non di poco conto e ora che abbiamo questa inquadratura più ravvicinata possiamo vedere le caratteristiche tecniche di assoluto rilievo 10 atmosfere e considerando la peculiarità di questo orologio resistere a 100 metri di profondità e di pressione marina sono sicuramente un plus dal mio punto di vista abbiamo poi la presenza già citata dell'acciaio cristallo in zaffero movimento giapponese e la presenza di meteorite sul quadrante 40 mm di diametro uno spessore già citato e già detto davvero molto contenuto di 11.2 mm è un passo del centurino da 20 davvero rendono questo orologio molto molto interessante e come vi dicevo il la distanza da ansa ansa è davvero assimilabile a quella che è il diametro perché sono le ansie davvero molto contenute molto vicine a quelle che sono gli spazi della della cassa e questo va a dare all'orologio un ulteriore elemento positivo ovvero che veste molto molto bene su qualsiasi polso e il cinturino già citato per quanto riguarda la presenza di pelle italiana è davvero molto ben fatto e si sposa come detto molto bene a livello cromatico con questa referenza ma anche il bracciale che purtroppo non ho qui per potervi far vedere la prova completa è davvero molto interessante e vi invito a rivedere il mio video live al Watches of Italy per poterlo ammirare quando in quel di toltono ho fatto vedere tutti gli orologi presenti tra cui ovviamente anche gravity abbiamo la combinazione di rame acciaio e meteorite nella struttura del quadrante ma non solo abbiamo anche diverse finiture abbiamo finiture spazzolate lucide e sabbiate che vanno a creare una struttura tridimensionale che permette di catturare la luce in modo molto particolare e danno a secondo dell'angolazione che possiamo utilizzare per vedere l'orologio delle colorazioni molto diverse tra loro interessante vedere anche le incisioni che troviamo lungo tutta la carreau non ve l'ho ancora detto però è giusto darvi dei riferimenti che hanno portato alla nascita di questo orologio ultimo nato del marco che però già da tempo realizzato dei segnatempo che abbiano nell'astronomia e nello spazio quelli che possono essere dei riferimenti in questo caso il quadrante con il suo design allude ai dettagli del telescopio del signor galileo galidei quindi anche utilizzo di numeri romani vuole probabilmente dare un'accezione un po' antica a quello che è l'orologio seppur moderno in ogni suo aspetto che la prova al buio sia wow l'abbiamo già detto però non vi ho ancora detto che sono ben sei gli strati di superluminova che sono stati applicati sul vetro zaffero antiriflesso per poter dare questo effetto molto particolare quando siamo in assenza di luce un ulteriore elemento da sottolineare la presenza del meteorito al centro del quadrante questo rappresenta per gravity un viaggio nel tempo e anche qualcosa di misterioso spaziale perché sappiamo che questi materiali viaggiano nello spazio e poi magari arrivano sulla terra senza sapere che viaggio hanno fatto che hanno compiuto inoltre la superficie è davvero particolare con queste sfumature grigio e argento e un ulteriore elemento molto importante rendono ogni orologio davvero unico perché perché un materiale imprevedibile di conseguenza lo strato di meteorite presente su ciascun orologio sarà diverso eccoci spero che video vi sia piaciuto insomma questo focus copp è davvero estremamente interessante ben realizzato un orologio capace di intrigare secondo me gli amanti dello spazio e chi sta cercando un orologio diverso dai soliti noti che vediamo sempre è qualcosa di davvero di particolare il mio giudizio davvero promosso a pieni voti voi che cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti ovviamente in modo tale da chiacchierare un po su questo orologio e in generale su cosa vi è piaciuto o cosa non vi è piaciuto vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato all'offerta per gli orologi tiktok e il sito di era.it ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao